Io sto qui la mattina alle nove e mezza, dieci, per fare movimento e sport perché è essenziale per la mia vita prendere cura di me stessa, fare movimento, in questo momento poi c'è il parco quindi c'è anche molta aria buona e mi sento molto bene, quando faccio costantemente movimento è un'altra cosa. Siamo in un parco del terzo municipio di Roma nella zona di Talenti, questo parco si chiama Parco Petroselli ed è abbastanza vicino nelle vicinanze di un centro sociale degli anziani che si chiama Centro Sociale degli Anziani Cecchina Guzzano in cui noi come WISP Roma organizziamo corsi di ginnastica dolce da tantissimo tempo, da quasi 30 anni e io sono insegnante di ginnastica dolce e posturale in questo centro anziani da quasi 30 anni quindi ha un rapporto molto forte, molto importante e siamo stati fermi a causa ovviamente del lockdown purtroppo per quasi tre mesi. Le persone che di solito seguono i corsi della ginnastica essendo anziane sono state particolarmente a casa, hanno vissuto diciamo una vita particolarmente relegata e nonostante noi abbiamo mandato una serie di audio lezioni, video lezioni e quindi loro hanno potuto continuare a fare del movimento anche a casa però ovviamente farlo insieme e farlo uscendo liberamente è completamente un'altra cosa e quindi quando abbiamo avuto l'opportunità, quando le disposizioni, le varie disposizioni governative della regione eccetera eccetera ci hanno permesso di organizzare un'attività di gruppo all'aperto nei parchi l'abbiamo fatto immediatamente. Mi piace fare attività motoria perché mi fa stare bene, perché mi mantiene la morbidezza dei muscoli e perché sto in compagnia. Mi piacevole fare la ginnastica specialmente fuori adesso in questo posto bellissimo che è il parco Petroselli con Francesca dal 2004 che sono in attività con lei e strano un periodo che avevo i nipoti un po' piccolini e quindi ho dovuto lasciare. Adesso ho ripreso e sono veramente felice. Poi francesco molto brava e faccio sentire vive. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.